Sicuramente possiamo dire che il mercato delle altcoin non sta avendo i suoi momenti purrose, infatti possiamo vedere diverse altcoin che stanno perdendo non soltanto doppia cifra ma abbiamo raggiunto quasi un 40% su determinate altcoin di perdita in soltanto 48 ore, ma nonostante ciò possiamo vedere che abbiamo dei grafici positivi, infatti direi positivi, che ci fanno capire come questa continuazione verso rialzo potrebbe ancora avvenire e essere presente nei prossimi mesi. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon mercoledì mattina a tutti, sento del panico all'interno dei mercati e infatti ovviamente stiamo vedendo diverse altcoin che stanno perdendo, anzi sgocciolando sangue da tutti i pori, infatti abbiamo visto delle altcoin che hanno perso addirittura quasi il 35% se non 40% in pochissimi giorni, più o meno in realtà la maggior parte l'abbiamo perso in 48 ore. Ma nonostante ciò volevo mostrarvi delle chart molto importanti che ci potrebbero far capire come si stanno comportando diversi player istituzionali e non, diciamo le cosiddette whale, sia su bitcoin che su ethereum. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio, vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, basta perdersi in chiacchiere e passiamo con la visuale. Allora ragazzi partiamo con i dati di carattere fondamentale, infatti oggi non ci sarà un bel niente, però voglio concentrarmi e voglio prendere un paio di minuti per andare a commentare insieme a voi i CPI numbers che sono usciti durante la giornata di ieri. Sono stati più o meno in linea rispetto alle aspettative, infatti avevamo un forecast del 2,6% con un dato attuale uscito ieri appunto del 2,6%. Ma se noi andiamo a prendere l'andamento appunto dell'inflazione, appunto possiamo definire l'andamento dell'inflazione e andiamo a zoomare magari su un anno, vediamo come a partire proprio dal marzo del 2024 abbiamo avuto tendenzialmente un andamento stabile verso il ribasso. Infatti proprio a partire, anzi addirittura dalla sessione di gennaio abbiamo visto un dato attuale che è stato del 2,9%, poi è stato stabile sempre al 2,9% ma comunque la tendenza era negativa. Abbiamo stazionato sul 2,4% a partire dalla sessione di aprile, infatti abbiamo avuto i due dati, quelli del 17 e del 30 che sono stati del 2,4%. Stessa cosa in realtà di quelli di maggio, però per la prima volta dopo diverso tempo, diciamo a partire da inizio anno, abbiamo avuto un'inversione per ciò che riguarda l'inflazione, infatti siamo passati dal 2,4% ad un 2,6%. Quindi ragazzi attenzione e soprattutto vediamo in base a questi dati come si comporterà la Banca Centrale Europea per quanto riguarda un possibile ulteriore stazionalità dei tassi o comunque sia procederà ad un taglio. Anche se secondo me la cosa più probabile è che diversi mesi terranno stabili i tassi, vedranno come si comporterà l'economia a livello globale, l'inflazione eccetera eccetera per poi andare a definire nelle prossime sessioni di qualche mese se continuare a tagliare i tassi o comunque sia tenere delle politiche monetarie un pochino più restrittive. Voglio parlarvi della regolamentazione mica e diverse situazioni per quanto riguarda le stablecoin, in molti mi state contattando per quanto riguarda le regolamentazioni mica, come impatteranno le stablecoin perché effettivamente sono il fulcro centrale per quanto riguarda gli investitori medi, ok? Come noi in realtà dobbiamo sapere quale stablecoin andare a detenere e quali potremmo usare per diciamo organizzarsi per quanto riguarda il nostro trading, investimenti eccetera eccetera, ok? Infatti a partire dal 30 giugno sapete bene che entrerà ufficialmente in vigore il mica, mica ovviamente per tutti quegli exchange, per tutte quelle piattaforme che vogliono essere regolamentate in Europa e abbiamo definitivamente un annuncio di uphold, uphold per chi non lo sapesse è un exchange based americano ma che opera anche in Europa, personalmente non lo utilizzo però comunque sia ha annunciato un qualcosa di interessante, ha annunciato che entro il 30 giugno stopperà il supporto di molteplici stablecoin, incluso Tether, quindi conseguenza di USDT, DAI, Frax Protocol, Gemini Dollar, Pax Dollar e TrueUSD, questo a partire dal primo luglio. Possiamo capire che appunto tutte queste citate prima non sono compliant per quanto riguarda il mica, quindi possiamo aspettarci che USDT sarà comunque sia non supportato anche per quanto riguarda tutti gli altri exchange che vogliono far parte delle regolamentazioni mica e vogliono operare in modo compliant, ok? Però possiamo vedere come tendenzialmente potremmo vedere USDC, ciò vuol dire appunto quella di Circle, essere una delle poche insieme a PYUSD che è appunto quella di Paypal supportate in secondo appunto le regolamentazioni mica di conseguenza sugli exchange centralizzati. Quindi ragazzi vediamo come Uphold ha preso la decisione che il 28 giugno convertirà automaticamente tutte queste stablecoin da appunto Tether, DAI eccetera eccetera a USDC, ok? Questa è un po' la situazione, quindi possiamo capire come abbiamo visto che Tether non è compliant, almeno secondo quanto rilasciato da Uphold e ragazzi invece potremmo andare a buttarci su USDC che comunque sì ragazzi non è poi assolutamente un male perché effettivamente USDC è la seconda per capitalizzazione di mercato, ok? Quindi tendenzialmente se vogliamo prendere in considerazione la stablecoin sicura dal punto di vista di capitalizzazione abbiamo USDT che ovviamente lasciate fare il discorso dei report, delle riserve eccetera eccetera. Prendiamo in considerazione solo la capitalizzazione di mercato, USDC è la più capitalizzata però non ci è andata malissimo perché effettivamente USDC è la seconda più capitalizzata, quindi di conseguenza possiamo continuare ad utilizzare quest'ultima. E probabilmente potremmo vedere sempre più exchange aumentare le proprie coppie criptovalutarie a disposizione per andare a fare trading, ok? Di conseguenza questa è un po' la situazione. Si passa da Tether principalmente perché le altre sono appunto stablecoin minori a USDC, almeno in Europa. Allora ragazzi si è dichiarata BBVA, ok? Ha detto che è una delle banche europee più importanti e ha detto che un'allocazione del 3 o 5% in cripto e bitcoin potrebbe migliorare le performance dei portafogli di investimento. Non male, diciamo che l'ha buttata un po' così. Comunque sì ragazzi, volevo aggiornarvi per quanto riguarda la situazione ETF e pare che sia arrivata da parte appunto di Ashdex una richiesta per un ETF combinato. Infatti potrebbe arrivare appunto uno spot BTC e ETF combinato, di conseguenza è un mix tra le due, che tra l'altro come possiamo vedere è composto per il 70,54% in bitcoin e a livello appunto di peso e il restante 29,46% in Ether. Diciamo che questa potrebbe essere una delle prossime narrative quando abbiamo un effettivo lancio sul mercato delle porte statunitensi, l'Ethereum spot ETF, ok? Questa è un po' tutta la situazione, interessante, interessante. Allora ci sono diverse metiche che volevo mostrarvi, ok? Come per esempio gli inflow negli accumulation addresses, ok? Cosa sono gli accumulation addresses? Tendenzialmente stiamo parlando di portafogli speciali che tendenzialmente durante gli scorsi cicli di albing tendono più a accumulare bitcoin piuttosto che address will, ok? Stiamo parlando ovviamente di long term holders, ciò vuol dire di holders di lungo termine e soprattutto address che molto difficilmente vanno a dampare l'allocazione di bitcoin. E vediamo come stanno approfittando sempre di più questo crollo appunto di bitcoin, in via generale perché qui stiamo parlando soltanto di bitcoin, per andarle a accumulare e detenerli in questi address. Questa è una notizia positiva perché effettivamente vediamo come queste whales stanno approfittando di tutti questi crollo di bitcoin per andare ad accumularle, ok? Infatti soltanto il 17 giugno abbiamo avuto un incremento di circa 12.700 bitcoin, non dollari, ma bitcoin che equivalgono a 840 milioni di dollari in 24 ore che sono appunto fluidi all'interno di questi wallet. Attenzione ragazzi, voglio prendere in considerazione questo grafico molto interessante che prende l'andamento a linee del mensile di bitcoin contro il dollaro americano e lo z-score. Vediamo come si sta comportando esattamente la price action di bitcoin che prende in considerazione anche lo z-score, diciamo questa metrica, che effettivamente in zona dei massimi è andato un po' a stazionare. Ovviamente questa volta si sta attrattenendo di più in zona massimi per ciò che riguarda ovviamente il mensile e soprattutto lo z-score ci troviamo adesso in questo momento, in questa fase, nella stessa zona, ovvero tra i 2 e i 2.75 come ci trovavamo nel 2017. Una volta rotto sì lo z-score, sia ovviamente a livello di prezzo ritestata bene il massimo storico, poi siamo andati letteralmente skyrocket. Sarà così anche per questa volta? Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Perfetto ragazzi, prima di continuare il video voglio agganciarmi molto brevemente per quanto riguarda la situazione di diverse parachain che si stanno presentando come soluzioni di scalabilità per diverse blockchain. Infatti abbiamo già visto un video nel dettaglio per quanto riguarda le maggiori parachain e volevo andare a mostrarvi anche l'AUS, dato che me l'avete chiesto in molti che non l'avevo inclusa nello scorso video. Allora, stiamo parlando innanzitutto di una funzionalità che viene definita come un'universa layer 1 per quanto riguarda le principali blockchain, però senza effettuare vari brigi. E questo, almeno su carta, risolve diversi problemi di sicurezza, di exploit, hackeraggi, eccetera, eccetera. Questo con dei costi molto molto vicini allo zero, inoltre dà la possibilità, almeno anche qui su carta, di mintare diverse centinaia di asset per secondo, con un sistema di estensione decentralizzato per il processo dei metadata. Vediamo come qui abbiamo come backhead, early bid, target global, eccetera, eccetera. Quali sono gli use cases per quanto riguarda innanzitutto il settore del gaming, fornendo nuovi use case per quanto riguarda ovviamente il mondo del web 3 sotto il punto di vista del gaming. Abbiamo diversi vantaggi anche per quanto riguarda di conseguenza anche il mondo degli NFT collectibles, infatti riesce a gestire anche i token IRC20721S e anche per quanto riguarda il famosissimo real world asset, ovvero gli asset reali tokenizzati su blockchain. Infatti, diciamo, dà la possibilità di andare ad interfacciarsi con quest'ultimo. Infatti, attraverso l'utilizzo di questo protocollo dà la possibilità di andare ad avere diversi vantaggi per ciò che riguarda questa sezione. Altri diversi benefit che possiamo incontrare utilizzando i servizi messi a disposizione di Laos Network sono un costo per quanto riguarda il minting molto molto basso, infatti viene dichiarato come le minting fees sono più basse di più di 10 volte rispetto a quelle delle altre blockchain a parità ovviamente dello stesso asset mintato, come per esempio appunto gli NFT. Come abbiamo visto prima, c'è la possibilità di mintare gli asset su diverse chain, infatti dichiarano come c'è la possibilità di mintare asset su diverse chain, come per esempio Ethereum e Polygon, senza pagare gas fees della chain corrispondente. Inoltre pare che nel progetto vogliono andare ad integrare una funzionalità di sharding per implementare la velocità e la scalabilità soprattutto per quanto riguarda le blockchain interoperabili con Laos. Attualmente pare che a metà di questo luglio sia disponibile una token sale e stiamo parlando ovviamente del token Laos, dove vediamo come in questa fase di sale, di vendita, sarà disponibile dall'11 luglio fino al 15 luglio del 2024. Ogni token verrà venduto per circa 0,08 dollari. Per quanto riguarda il vesting non ci sono periodi di cliff, ma sarà un vesting lineare di circa 12 mesi. Se cliccate attraverso questo tasto potete andare a vedere la tokenomics e qui abbiamo appunto tutti i dettagli per quanto riguarda le funzionalità del token Laos eccetera eccetera. Ovviamente non è un invito per andare appunto a partecipare a questa tipologia di sale, ma ovviamente dato che stavamo parlando del progetto ho voluto introdurvi anche che è disponibile il lancio a breve per quanto riguarda il token ufficiale di Laos. Comunque sì ragazzi per chi fosse interessato vi lascio tutti i link per andare ad approfondire in autonomia questa parachain, dato che l'abbiamo già approfondito più e più volte all'interno di questo canale anche attraverso video dedicati. Ma adesso continuiamo. Perfetto ragazzi passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato questa mattina. Abbiamo un mercato leggermente in ripresa, infatti vediamo come abbiamo ENS che guadagna un 15,3%, FTM un 8,2%, però in realtà se andiamo a prendere una visuale settimanale siamo comunque in profondo rosso. Abbiamo per esempio WorldCoin che perde, scusate, il meno 24,1%, Ordi il meno 24,2%, STRK meno 26%, insomma diciamo che nonostante abbiamo avuto nelle ultimissime ore una specie di bounce che ci ha fatto recuperare almeno un po' la perdita, siamo comunque in profondo rosso sul settimanale. Andiamo a vedere però su CoinMarketCap ciò che ci interessa a noi, cioè vedere Ethereum e Bitcoin. Ethereum vediamo come comunque nel settimanale ha una performance positiva dell'1,3% visto l'incremento del 3,37%, ma in realtà è una lunga fase di stazionalità che stiamo vedendo appunto su Ethereum. Anche su Bitcoin vediamo che appunto sia sul settimanale stiamo perdendo il 2,83%, però è stabile nelle ultime 24 ore, sta assestando il prezzo a 65.500 dollari. Andiamo prima a vedere Bitcoin molto rapidamente cosa sta succedendo e soprattutto poi dopo andiamo a vedere la Total 3 perché voglio vedere un attimino come ha chiuso il daily perché c'è un pattern che non mi piace molto, sono sincero. Allora per quanto riguarda Bitcoin la situazione è sempre la solita. Double top, rottura, ritest, effettivamente poi abbiamo confermato con la chiusura di ieri un minimo al di sotto del minimo precedente che era il minimo del 15 giugno 2024 a 65.991, abbiamo avuto una chiusura a 65.000 dollari ma siamo arrivati a toccare anche addirittura i 64.000 dollari, 64.000 dollari che per adesso abbiamo ripreso. Ora ciò che mi piacerebbe vedere innanzitutto è il fatto che abbiamo toccato effettivamente il livello che vi dicevo. Ragazzi attenzione perché la prima zona al cui potremmo appoggiarci sono i 64.000 dollari che coincideva se andiamo a mettere anche il grafico a linee esattamente con questo massimo. Ora ovviamente qui non si vede perché le shadow non li prende in considerazione ma abbiamo preso questa chiusura qui del 5 maggio del 2024. Nonostante ciò però ragazzi quel che voglio vedere nei prossimi 2-3 giorni se vogliamo andare a sfatare una continuazione verso il basso è rientrare almeno sopra i 68.200 dollari, diciamo all'interno proprio di questo range. Volevo mostrarvi il fatto che a partire proprio da marzo dove eravamo troppo, veramente troppo, esposti con dei funding rate enormi, per esempio su Pepe avevamo il 4 marzo un 159.05 di funding rate, una cosa assurda. Ciò vuol dire che praticamente tutti erano long su Pepe come in realtà su tantissime altre altcoin come per esempio anche Solana ma in realtà anche su Bitcoin avevamo un 95.31. Ciò vuol dire che la maggior parte delle persone, dei trader erano posizionati long e di conseguenza avevamo dei funding rate estremamente positivi. Nonostante ciò vediamo come tutto questo crollo, tutta questa fase di incertezza abbia portato praticamente tutti gli asset Bitcoin, Ethereum e in linea generale addirittura qui abbiamo Ton che ha un funding rate negativo comunque sia ad avere un funding rate neutro nonostante che riusciamo a mantenere questa situazione. Ciò vuol dire che questo ci fa capire come siamo sì estesi però in realtà dal punto di vista dei mercati derivati abbiamo ancora la possibilità, qualora dovesse la maggior parte delle persone, iniziare a speculare long avere ancora molta strada dato che il mercato non è troppo esteso, almeno da questo punto di vista. Voglio andare a vedere molto brevemente insieme a voi il mercato delle altcoin e per farlo voglio andare a prendere in considerazione la crypto total market cap o meglio la cosiddetta total 3 escluso sia Bitcoin che Ethereum, ok? Perché quelle sono due metriche a sé stanti. Vediamo come negli ultimi giorni purtroppo abbiamo rotto verso il ribasso questa zona era a partire dal primo marzo del 2024 che non vedevamo violata questa zona, ovvero la zona dei 612. Infatti se andiamo a mettere anche qui il grafico a linee vediamo come purtroppo abbiamo rotto questa resistenza. Era una resistenza importantissima. Ora, quel che non voglio vedere assolutamente è un ritesta anche qui per poi andare verso il basso perché ragazzi se andiamo verso il basso qui il primo punto che ci potrebbe salvare sono i 550 ho preso le chiusure sono i 535 ed è una cosa che non vogliamo vedere perché effettivamente abbiamo visto una debolezza che non vedevamo ormai da diversi mesi effettivamente perché questo è un grafico daily ma come potete vedere ha sempre retto con l'esciato sì l'abbiamo bucato verso il ribasso ma l'abbiamo sempre tutto riassorbito le chiusure sono sempre state al di sopra di questo livello purtroppo ieri abbiamo confermato questa rottura verso il basso. Come vi dicevo ciò che voglio vedere anche qui un po' come bitcoin è andare a riprendere la soglia dei 245 miliardi di dollari altrimenti le possibilità di continuazione verso il ribasso sono più ampie. Perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare ad usufruire le promo eccetera eccetera le varie exchange se non l'avessi ancora fatto vi chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao